Vai scendi pure, arriva, arriva, dai, arriva, dai, oh, oh, no, non è di schianto raga, non è di schianto comunque volevo dirvelo, ciao, 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 piacere, piacere, ciao. Ancora, no, si scherza ovviamente ragazzi, ciao ragazzi, avevate azzeccato, beh comunque non era difficile perché senza buttarmi giù i fiori perché li ho rubati sulla tomba di mia nonna, però vabbè non era così rilevante quel messaggio, ragazzi lei non è Alessia Lanza, Oronos, comunque è piacere, piacere, ciao ragazzi. Sì, tanto la chat non la vedrai, la vedrò solo io. A me sai niente, ma non gli posso salutare. No, ma di te non ci riconosciamo innanzitutto, cioè, piacere. Ma me li sollevate, eh. Grazie, mi scusate. Stai bene, no? Sì, 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 stai bene. Profuma? Senti il mio profumo, ti piace? Senti, senti che ti piace. Ma sa di, di... Ho messo anche quasi, vuoi. Posso? Buono, 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 ci sta. Tre piatti. Ogni piatto ci sarà qualcosa. Perché non c'è da mangiare. Cioè, può esserci. Ragazzi, a reggiseno sotto, è inutile che scrivete cazzate, comunque, indipendentemente da... Sai che l'ho scritto? Eh, F, 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 che si vedono le tette, non è vero. Ma, raga, a parte che le tette proprio non le ho, e poi questo è il reggiseno, a fascia, perciò, proprio... Beh, comunque si sente, indipendentemente da questo. Stavo dicendo, ci saranno tre portate. Ok. E... Easy, vabbè, tre portate. Tra queste portate ci saranno dei video. E dopo capirai. Ma... Cioè, ma devo dire. Video... Ma che spiegazione è questa? Va bene, va bene. Ok. Sono... Cioè, capito. Va bene. Chiaro. E, vabbè, comunque, indipendente da questo. Grazie per il beat, Jeffy, se la smetti vi faresti un favore. Non sai spiegare. E, vabbè, comunque, indipendente da questo. Siamo ad un appuntamento, quindi, cioè, si parla. Immaginavo, cioè, cosa vuoi fare prima. No, no, no. Io ho fatto, cioè, ho fatto tanti appuntamenti. Vabbè, sì, si capisce, forse. Anche da... Sì, immagino. Sì, tanto. Quindi sono una delle tante, eh? Sì, sì. Ma, no, non è importante questo. E, comunque, vabbè... Mi senti male, però. No, no. Ma me ne vado già. No, no, aspetta. No, non si sente, lo so, si vede dalla cosa. E... Ma scusa, se già al primo appuntamento mi dici che sei pieno, che... No, non sono pieno. Cioè, è una battuta... Cioè, le battute. Quelle... Non ti conviene. Sì, no. Altrimenti me ne vado, eh? No, no, no. Potresti darmi un voto all'outfit? Sincera, eh, però, cioè... Ragazzi, allora, innanzitutto, ci vuole coraggio, eh? Però, cioè, bomba. No, ti salterei addosso. Dai, cavolo. Che notizia è questa? No, poi comunque... Bomba. Tu qui? Cazzini. Ah, scusa, fu quel cazzone. No, se no... Dai, dai. Perché ti fermi così? Ma raga, che brutto, io lo posso leggere. Scusate. No, 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 no. Tenta, non leggi. Snorlax. Snorlax. Hai visto che è il tatuaggio? Sì, ne ho quattro. Beh, ma è veramente brutto. No, ha un significato particolare. È rosso, è come te. Ha un significato particolare? No. Ma aspetta, scam di cosa? Oh, no, 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 devi scrivermi, devi scrivermi nel caso, te l'ho detto, devi scrivermi, altrimenti va bene. Guarda che è rosso come te, stai dicendo che sei brutto. Cutone? Cutone? Cutrone? Sì. Cuno... Poi ho questo, 17. Non lo vedo. Per l'album di Lazza? Sì, ovvio. Ok, ok. Poi ho Beautiful Disaster e ne ho uno qua. Bello. Whatever you are. Ovunque tu sia. Bello. Bello, sì, molto belli, molto belli i significati. E Ornos, non hai capito ancora un cazzo? Devi letteralmente scrivermi cosa, altrimenti, scusa, non puoi capire. No, ma avviene così, avviene così. No, ho un modellatore che non capisce. E io ho tanti tatuaggi, cioè, in mente. Dove? No, in mente. Cioè, non li ho fatti però. Però vabbè, ci stanno. Ma tu che lavoro fai? Non me ne frega un cazzo. Tu che lavoro fai, scusa? Allora, lavoro nell'azienda, va bene, di mio papà. Ok. Ovvero, lavoriamo l'accioio inossidabile. E basta, quindi lavoro lì, durante la settimana. E poi, boh, c'è un po' attraverso i sogni. E quindi, come si lavora l'acciaio? Mammo, cioè, io non è che sono giù. Ah, te fai... Ovviamente, c'è la tricia, ci sono... Sì, esatto, io sono. Ok, ok. E quindi lavoro con un mouse? Sì. Ah, no, non sei a... Scusa, sai che ho aperto un merci, oh? No. Non lo sai? No. Cioè, sto prendo il merci delle maglie, tipo camice. Questa? No, no, non questa, cioè, così. No, ma sono serio. E me ne dietro scrivo tipo il rosso. Se sono dettagli e bisogna ancora lavorarci. E questa la usavo in terza media. E se ne avevo 1005, l'ho giunta... Dietro scrivo il rosso. Un secondo te, cioè, spacca? Sì. La comprirei subito. Sì. Te andresti in giro con la mia camicia? Sì. Bene. Però dovresti farle anche un po' più da penne, cioè, un po' più, non so, corte. Il 2022. Il 2022, eh. Il 2022. Ehm... Vado un attimo in bagno. Mi fa già paura. Tu non guardare, nella chat parla, racconta il tuo lavoro. Arriva, ragazzi. Ciao. Perché non posso leggere la chat? Cioè, te lo consiglio. No, dai, dopo. Ciao. Ciao. Mi fa già paura. Ma... Ma ci hai messo due secondi. Questa è la prima portata. Cazzo, eh. Cioè, spacco. Figgio, dimmi con questa entrata. Con questa entrata. Cerca di non baciarmi durante tutto l'appuntamento, eh. No, ci provo. Sistema il mio ciuppo? Eh, non toccarmi. Non toccarmi, per favore. E... Tu? Lavori? Stavi... Ah, no, l'hai detto. Ehm... Cioè, io sono un figo adesso, giusto? Ehm... Io... Hai tutto... Hai tutto il giubbio bagnato? No. Però... Cioè... Ehm... Ma che hai? No, scusa. Mi ha scritto la mia ex. Ehm... No, sto scherzando. Un saluto alla mia ex. Ehm... No, ma poi... Non dovrei... Vabbè, ma comunque... Sì. Ehm... Ehm... Fanculo. Sono uno stronzo, io. Ehm... Tu sei sul mondo dei social? Sì. Cioè, si dice in giro così. Sì. Abbastanza. Perché mi hai chiesto di uscire? Boh, l'ho vista lì, ho detto... Poverina. Ti facevo pena? Sì. Abbastanza. Mi facevi pena? Dai. Ehm... 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 Lavori sui social, stavo dicendo. Sì. Sì. E? E? Cioè, non lavori. Eh? Lavori? Sì. Ma sento che fai l'acciaio, l'acciaio fai. Sì, ma cosa vuol dire? Fa l'acciaio, ho detto. Posso fare due cose contemporaneamente. No, 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 no. No, non si può. No, 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 no. No, secondo te no. Sì, però non fare quella mossa che altrimenti... No, solo per dire le cose. Scusate. Sono un po'... Ehm... Ehm... Vai in moto? No. Vuoi salire sulla mia moto? Sì. Ah, ma ora? Certo. Ma hai pagato? Il bicchetto? Dalla moto? Sali. Vai. Ma il casco? Ehm... Però io sono andata a parte. Ma il casco? Ehm... Ehm... È perfetto. Il casco va di moda. Non va tanto di moda il casco. Ehm... Che brutta sera. Ragazzi... Che cazzo, eh? Sembra il totò di mare fuori. Ehm... Comunque... Ehm... Che brutta sera. Guido a guidare. Guido io. Adesso proprio io. No, no, no. No, no. Adesso guido io. Guido a te. Sì. Dai. 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 Oddio! No, non bucarmi il cielo. Ma dai! Dai! Cavolo! Dai! Ah, no, non guido. Non salire io. Vattene. Vai, sali, 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 vai. Ok, poi... Come stai? Vai, vai, vai. No, ma ti brutta. Cosa? Vabbè, va bene. Era bruttissimo il cielo. Ti ho detto che... Ah! Vabbè, e... Sono in arresto, vai. Mi sono in arresto. Basta. No. No, 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 no. Mi si è bucata la ruota. No. Dai, però era carino a farlo. Sì. Come si chiama la tipa? Michelle Cavallaro. Comunque, vabbè, indipendentemente da questo. Stavo dicendo. Tu sei nel mondo dei social. Sì. E... Cioè, ti piace? Sì. E? Però vabbè, cioè, non è che... Ma sei qui dentro per... Così, perché mi piace. Ti bacio. Grazie, Hermas, per il Prime. Puto scattivo Prime, puto scattivo Sub e Sabarvi. Tu non guarda là. Guarda solo me. Ma sì, ma tanto c'è quello di divanti, lo vedi. Scusa, ogni tanto... Sì. E... Sei qui dentro per... C'è un motivo. Per... Per i social, mi intendi? Dai, giuro. Però non fai così. Non riesco a farla seria. Così. Ok. Vabbè, comunque, perché... Boh, non so, è iniziato tutto a caso, perché mi piaceva. È dalla quarantena. Alla fine. E quindi... Quarantena? In quarantena ero in camera sempre da sola. Ho detto, vabbè, l'unico modo per comunicare i social, basta. Dai. Non toccarmi. E... E... Sui social? Cioè... E come... Qual è stato il tuo primo balletto? Oddio, non me lo ricordo. Ah, tu sai qualcosa... Oh, è stracrigio proprio. Sì? Un'increzione. Sì? Hai presente che c'erano degli effetti? Mettere... Gli effetti, sì, sì. Conosco. Che uscivano, non so, tipo, coriandoli, erai... Eh, sì, sì. Eh? Eh, e quello è stato il mio primo. Cavolo. Tu primo disco d'oro. Parare d'odio. E... No, sai per cosa sono spopolato io su TikTok? Tu non lo sai. Eh... Sai il video... Eh... Come si chiama la canzone? Quella che fa... Aspetta, la posso mettere? La metto, aspetta, la metto, così capisci. Sì? Sì, sì, che mi hai già conquistato. Sono contento, cioè... Che devo dire, cavolo? Era un rallentatore, il video? Quando l'hai fatto? Eh? Sì, era in 4K. Sì. Vabbè, comunque torniamo... Comunque è un appuntamento, se vuoi farmi domande... Cioè, non è un'intervista, puoi farmi domande, se vuoi. No, non mi interessa niente. Bene, dai, ciao. Cioè, puoi andare, se vuoi, non è così importante. Ehm... Beh, ballo bene, eh? No, mi sa di no. Vabbè, comunque non è importante. Stavo dicendo... Eh... Tu ti chiami Chiara? Perché... Faini di... Faini di cogn... Ehm... Ti hanno mai detto se è Chiara la zozza? No, mai. No, posso dirlo io? Certo. Vai, zozzola, cavolo. Ehm... Vabbè, comunque stai dicendo... Chiara... Chiara Faini, ti chiami... Eh... Hai un lavoro, fai la... L'acciaio, hai detto. Lavori sul mondo dei social. Ma ti hanno portato delle... Cioè, dei soldi... Di social. Sì, è traverso l'agenzia. Tu di che agenzia sei? È Agic Promotion. Agic Promotion, delle merde siete! Fate schifo! No, scherzo. Saluto tutti quelli di Agic Promotion, non vedo l'ora di partecipare e collaborare con voi. Loving! Agic Promotion è un'agenzia che vale o no? Sì, cioè, non lo so. Come boh sì? Devi dirti sì, la tua agenzia è Agic Promotion. Vabbè, ma comunque, indipendentemente da questo... Ehm... Fai sport? Allora... Non sono mai stata una sportiva vera. Ho cambiato un sacco di sport. Ho provato scherma, non so, nuoto, Il patinaggio sul ghiaccio l'ho fatto per tre, quattro anni. Eh... Boh, ho fatto un po' di tutto. Poi ho fatto... Cioè, vabbè, ultimamente comunque... Ho fatto palestra. Ti ascolto mentre parli, eh? E poi ho fatto palestra. E poi basta, poi ho smesso per l'estate. E adesso dovrei ricominciare. Però... Ma che era il tuo scatto? No, scusa... Niente... Cose mie. Ehm... E fai palestra? Potresti farmi uno squat? Lo facciamo insieme? Uno squat? Qua? Cioè, ho due ritacchi. Vabbè. Cazzo c'entra? Ma sì, ma perché... È come dire... Ahia, lo giuro! È come dire, facciamo sesso? No, 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 non fumo, eh? No, 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 non scherziamo, eh? Ehm... Sì, però lo devi fare con me. Cioè, non vado... È un pantaloncino, ragazzi. Ah, occhio! È un pantaloncino, è un pantaloncino! Ma poi non mi si vede niente! No, sì, ragazzi sono... Fate bene, ragazzi, continuate, eh? Vai, vai, continuate, continuate. No, adesso non vado con me, però no. Vieni... Sì, occhio che... Non mi... Cioè... E se scendi... Ah, è un pantaloncino! È un pantaloncino! Ah, non si vede nulla, allora, vai tra! Sì, ma vai più qua, vai a sinistra! No, di là, di là, scusa. Dove c'è il goof? Vai, squat! Vai! Sono il tuo misterio! Uhuh! Yeeey! Come on! Come on! Yeeey! Beh, posso dire che meno male che hai messo di far palestra perché... Povero il tuo coccio! Ma... Ok. Comunque, ragazzi, anche se si vedessero le mutande, cioè... No, ma poi è un pantaloncino, non si vede nulla. Non è che fa così schifo. Cioè, nel senso, le mutande, cioè, sono belle esteticamente, non le tue, le un... Le mutande, ok. Sì, ti interessa qualcosa di me, cioè... No, così, visto che siamo ad un appuntamento, ma... Mmh. Sì. Cosa fai nella vita? Ma, io sono... Io prima facevo il market worker, sai cos'è? No. Ravoravo a mercatini, però in inglese l'ho detto. Ok. E vendevo astucci di lana, che creava mia nonna. Ne hai uno da darmi? No, fatti i cazzi poi. Eh, ho vinto, appunto, queste astucci di lana. In un anno ne abbiamo venduti, tipo, tantissimi, cioè, per essere il mercatino. Eravamo arrivati, forse, 400 in un anno. E uno calcola che costava... Meno di un euro. Sì, ma ho detto cosa fai ora? Ah, ora? De... Lo shopper. Niente. Cioè, acquisto online, intanto. Fai nulla. No. E non rivendi? No, 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 no. Io ci perdo e basta. La mia vita è una perdita totale. Sì, sì, sì. Il rosso più bello d'Italia. Grazie. Tanto sembro moro, così, non sono più rosso. No, si vede che sei... No, sono qua. Si vede che sei... Che sei rosso. Scusate, scambio di sguardi. È un po' come uno scambio di opinioni. Io... Chi ti porta la prima portata? No, non te la porto io. No, ti volevo parlare... Hai fame? Hai fame? Sì. Porto la prima portata. Arrivo. Non sai cosa stanno ad incontro? Allora. Giusto perché non c'è il cameriere. Il occhio, ovviamente. Li ho chiusi. Ok. Oddio. Ma perché devo chiudere gli occhi? Dai, sorpresa! Ho già sentito che ci sono dei piatti. No, dei piatti ci sono sicuro. Ecco qua, ragazzi, è un piatto. Che cacchio ci hai messo? Ok, no, cazzo le pina, porca troia. Vabbè, niente. Oh, non lo scrivi, cosa? Scrivi, cosa? Aspetta, ok? Te lo sposto più in qua. Secondo te cosa ci sarà? Metti le mani qua sopra di me, scusa. Non posso toccarti. Posso toccarti? Dai! Ti piace le mie mani? Ti piace? Posso leccarle? Leccarle? Cioè, di solito si basta. No, 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 posso leccarle. Interessante. Vabbè, scusa, ok. Sei pronta? Devo spaventarmi, non so. Ragazzi. Non vedo. È una tartare di salmone. Non è vero. Che cavolo è sta cosa? Allora, scusate, scusate. Adesso, no, non scamo, raga. Calmi, calmi, calmi. Ho capito cosa volete dire. Calma, facciamo il primo questo? Ok. Cos'è? Allora, ci sono dentro quattro ingredienti. Se tu azzechi questi quattro ingredienti, io farò un... Mi avveleni, cioè... No, 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 no. Calcala che l'altra volta Dali l'ha assaggiato e si è cagato addosso e per due giorni è stata malissima, però vabbè, è ancora in vita, per il resto non è importante. Ci sono quattro ingredienti, se tu li azzechi... L'avevo fatto per forza, cioè... Sì, se vuoi andare fuori casa mia adesso, puoi anche andare. Altrimenti devi assaggiare. È un... Buono, io l'ho assaggiato prima di provarlo. Se... Girati di là... Quindi è cagotto? Sì, due settimane che c'è... No, no, per lì, vabbè, 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 vabbè. Ma posso... Dai, che buono, cavolo, sembra... È buono? Sono quattro ingredienti. Quanto ne mangi? Che c'è? Vabbè, mangia, scusate. No, c'è la scorpacciata, figa, manco fosse teneroso. Sì, sì, se necessitare che tongale... Allora, non è così male, eh. Ma come no? Io stavo svenendo quando l'ho mangiato. È una merda. Cioè, te lo giuro, sono svenuto per due minuti quasi per terra. L'ho avuto l'attacco a pelettico. Un saluto a tutti quelli che hanno l'epilessia. Saluta, per favore? Mi saluta bene? Ciao! I fan from Apple. Allora, c'è lo yogurt, pepe. Tipo salsa rosa. Quattro, hai detto? Ne ha azzeccato almeno uno. Due azzeccati. Due azzeccati, quali sono? Yogurt e pepe. Yogurt e pepe. Sì. E salsa rosa no. Ah, è azzeccata? Sì, salsa rosa. Sì. Cazzo, ragazzi, sta azzeccando veramente. L'ultimo è il più difficile. Peperoncino. No. Hai gli ultimi tre tentativi, vai. È sempre un'altra... Se sbagli... Vabbè, sì, comunque vedrà che se sbagli non è che succede qualcosa. È tipo come il pepe? Eh? È una... No, il pepe... No, non posso dirtelo, non posso dirtelo. Ma ragazzi, c'è finisce che lo mangio, che schifo. Ma ti piace? Cioè, fino a stavano ancora, cazzo, se lo sorseggio, vai. No, vabbè. Ma no. Ma... Che c'è il salsa rosa, c'è... C'è il ketchup, ovvio, anche la maionese, però ho mischiato. L'ultimo. Viene usato in tutti i pasti, quasi. Quasi in tutti i pasti. Cazzo, cosa dice... Forca troia. L'ha zeccato? Sì. Davvero? Sì. No. Sì, è zeccato. Davvero? Sì, è zeccato. Tutti i pattro? Sì. Forca troia. Vabbè, passami l'obbligo dietro. Quelle del 500 lo faccio, tranquilli. Sono fortissime. Sì, aspetta, chiudi qua. Non puoi... Che schifo. Appoggiarlo... No, è che comunque non era troppo male. L'ho messo. Aspetta, vedi là che c'è la cosa degli obblighi? Quanto lo mettono lì? No, l'obbligo, quello rosa. Ho capito. Sono obbligo? Sì. Perché? Cioè, mi sono autope... Cioè, mentre scrivo il format, ci rimetto io, porca troia. Vabbè, dai, speriamo sia una cosa semplice. Cos'è sta cosa? No, dai, la odio qua. Sono degli obblighi. Ma perché devi fare l'obbligo? No, infatti, non voglio farlo. No, invece tu lo fai. No, 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 no. Voglio leggere, no. Allora, chiama... Ma è una cazzata. Chiama barra scrivi la tua BFF. No, ma tutte le nostre BFF sono top. Perciò adesso la chiami. Vai, chiama. No, ah, non posso farlo io perché semplicemente fa il mio nome questa persona. Eh, vi spiace, cavolo. Peccato. Fallo. A fine live lo facciamo. No. No. Mi scappa la pipì, devo andare in mani. Devi andare in mani, devo andare in mani. Ciao ragazzi, arrivo. Sì, è astigmatica, cioè non potete prendere... Non potete pretendere tanto da me. Basta! Mi tradisci? Basta! Ma mi tradisci? No, no, basta, no, no. No, no. Ma dove sono finita? Aiuto. Guarda che secondo appuntamento quando c'è, te lo dico. Ma ha rotto il cazzo, veramente. E... 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 Si è andato? Su. E chi c'era? Mia nonna. Quanti anni ha la nonna? Boh, diciamo che è in fin di vita, questo è l'unico dettaglio che ti può stare. Un po'. E... Cos'hai qua? Alessia Amaranza attenta. Tutte le salse che solitamente sono bianche sono state rimpiazzate dalla produzione endogene del rosso. Veramente da Troia, un po' di tutte le Troia che è un lavoro degno di... Il sangue del rosso, includendo tutte le sue malattie a venere. E... Vabbè, comunque, indipendente da questo. Grazie Alex, non ho sentito quel cazzo che hai detto. Grazie Simo Colo per il Prime. Ti faccio. Mi ricordatevi ragazzi per sostenere il canale, perché altrimenti questo canale sarà morente come... Ma questo non lo faccio semplicemente perché... Sta bene adesso, non si fa. No, ma l'obbligo... A fine livello facciamo, guarda, lo tengo qua, così mi ricordo. Sta bene, allora. Sì, sì, sì. Pomba. Sta benissimo proprio, eh. Allora. Scusa. Andiamo avanti. Ma è mio? No, è tu. No, è mio, è mio. Oh, basta. Ma veramente? Cosa? Porca Troia, cosa... Cosa? Che cosa? Va bene, va bene, va bene. Dopo, calmi, calmi, non subito, calmi. Ma che calma? Ok, niente, no, vai tranquilla, vai tranquilla. La chat sta capendo. Vabbè, comunque stavo dicendo. Io faccio palestra. Fai palestra? Sì. Quanto tempo? Guarda, no, da tanto, guarda che qua ha tante cose, infatti. Vedi, no? Capo. Sono qua. Cavolo. Cosa? No, stavo guardando la mia chitarra, i ricordi di infanzia. Ricordi, ricordi. E ti faccio vedere due cosettine che faccio sempre, quando mi alleno. Aspetta. Aspetta. Allora, è l'opsoas. Allora, l'opsoas sono serio? Si sa meno. È serio d'opsoas? No. No. Eh, io te l'ho scoperto. Non è la di stesse l'opsoas. Questo è primo esercizio. Poi questo è bellissimo. Ma chi te l'ha insegnata? È un po' fai da te questa cosa? No, ho visto un tutorial su Bidu Tutorial su Bidu, sì Posso provarli? No Dai, voglio provare a farli Sono curioso Allora, sto ce l'ho veramente andato Eh? Vuoi darmi un bacino? No, non posso Allora Ma aspetta Sì, no raga, non è uno scamo Ho detto calma Moderatori, ripetetelo ogni tot Aspetta vai Ma non ti entra Ma inciampi Ti rompi la testa E speriamo funzioni in questa maniera Era? Dicevi? Come che era? Vai No, sentite come che era So, sì, il primo che era Indietro, avanti Indietro, avanti Ok Cacchio, cado Niente, mi ha bucato la porta Dai, ma non è possibile No Aspetta, non me lo ricordo più Era giusto, era giusto così No, quell'altro era Allungare la gamba dietro Quella è questa? Sì, questo è l'unico esercizio che effettivamente Ha un seguito Dai che pare, ma così si diventa la mia risata Ti piace la mia risata? Niente, non mi caga Sì, lo censuro dopo ragazzi Calmi, cadate questo corsetto Guardate come cazzo mi guardo Provate a non innamorarvi Ma senti Che schifo Beh, io ho Ma Posso acerti un Qua sulla guancia? Qua? Rosso? Dai No Dai Sul collo Non posso Ah Scusa Capito Cavolo Capito Si scherza Non posso dire che sto scherzando No, beh Cioè Scambio d'amore Stavo dicendo Tu Che rapporto hai con la tua famiglia? Bello Devo dire bello Allora C'è stato un periodo Bruttissimo Vabbè Lascia stare Sì, no Infatti Ma te l'ho chiesto Cioè Non l'ha Non l'ha No, vabbè Perché Il marito di mia mamma È andato in depressione E quelle cose lì Perciò vabbè Non c'è stato un brutto periodo Però Devo dirti Che Sono felice La mia famiglia Cioè Nel senso Poi mi lasciano anche Molto il mio spazio Mi fanno fare Le cose che voglio fare Sono permissivi Però Va bene Come la mia famiglia Che una volta Oh cazzo Sto spendendo il televisore Come la mia famiglia La mia famiglia è molto permissiva Infatti Una volta Cioè tipo Sono tornato In ritardo di mezz'ora a casa E niente Sono andato a casa un mesetto In costigo Però vabbè Per il resto sono molto permissivi Ma non c'è niente di male Comunque ricordiamo che ho 21 anni Grazie la bolla per il Prime Veramente sei un coglione Cazzo di abboni su questo canale Scherzo Cioè Scherzi Tratto bene No invece Sincero Hai mai pensato di Fare una gangbang con tutti i tuoi parenti Una gangbang? Cos'è una gangbang? Quando spari di prima volta Ti bacio Grazie Gigo per il Prime Poi tu si è un attivo Prime Poi tu si è un attivo sub No Una gangbang è quando fai sesso di gruppo Con la mia famiglia Guarda che non so un cometa Che vado con la nonna Non per dire Mia nonna è uno schianto Quando mi bacia Posso vederla? No Cioè adesso non andiamo oltre È sempre un limite Non ne ho mai pensato? No Cavolo Cavolo Fincera no No vabbè va bene Adesso è il momento del video Il fatto è che non mi sei collegato a Aspetta mi sta chiamando mia madre Ma davvero? Sì sì Arrivo Ragazzi che falsa Non ci credo neanche Si cambierà di nuovo Arriva Se arrivi in costume Veramente Eh? Eh ma Sì Sui like Assurdo Perché voglio Sto qua Sto qua No raga Se arrivi in costume Veramente Assurdo Sui like Eh sì Che sta succedendo Ma raga Mi sono finita Seriamente Comunque devo dire Che quello che ho assaggiato Prima raga Non era così male Ma stai scherzando? Cioè Non Ma ti cade addosso? Ma che cazzo vuoi? Sì ma basta la voce Ma ti sento un normale Per un margatino Ah non è No per una feria In sostanza ha detto Che si è cagato In mutande Allora basta No dai Scusiamo Che allora Mi si ving No Con la sua finezza Vabbè Dai Dovete Dai Ciao ma Scusiamo Scappa via Ah no Niente Mi ha chiamato la mia madre Ah che pensavo si cambiasse No 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 era serio Mi ha chiamato la mia madre Perché Ti sei cagato addosso In sostanza Sì vabbè ma Sai con le robe di famiglia Che rimano contro di noi Sì certo Però vabbè È successo così Volevo farti vedere però Un video che mi hanno inviato Ok Che purtroppo la chat Non riuscirò a farvi vedere Perché è un casino Però sentirete Questo me l'ha detto Valerio Mazzei No dai ascoltiamo Bella rega Per i prossimi tre minuti Dovete parlare solo di sesso Niente No 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 ovviamente Non parliamo di sesso Che schifo il sesso Fuck sex Ehm Dai Bello Cioè ci stava bello Davvero Sì Ok Cosa Quando è l'ultima volta Che l'hai fatto Dai una settimana fa Una settimana fa Sì Con chi Si può dire Devo dire la verità O devo dire la cazzata Verità Assolutamente No allora Allora iniziamo da capo Dai due settimane fa Due settimane fa Con chi Riniziamo dai Da quanto tempo Non lo fai Un anno fa Un anno fa Riniziamo ancora No 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 Un anno fa Un anno fa Cioè spacca È stato Ok con chi Ehm Era una Un'oggetta di famiglia Quelle di Natale Sono serio No no Infatti per questo Prima di te Da noi capita spesso Interessante E la tua cugina Era la nonna Invece te Qua Ti piace essere presa Al muro Tipo stretta E presa a schiaffi Sincera Con questa finezza Proprio No allora diciamo No vabbè Hai capito Scusa Sono un po' Ah comunque No no Chiedo io un'amicizia Sì vabbè Cioè Chiedo io un'amicizia Ragazzi assolutamente Vabbè Sì Cioè Sì Si sta No Cioè lo dico per te Perché almeno Poi per te No è perché Siamo ad un appuntamento No Ah ok Quindi adesso dovrei prenderti No 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 Invece a me piace essere legato Con la mela in bocca E essere preso parolaccio Tipo stai zitto coglione C'hai le palle piccole Ci stanno Oppure il tacco sulla palla Che gira Bello L'ho fatto ieri quello Sì A chi Eeeh 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 Dai Eeeh Possiamo provare a fare una cosa Mi metti la mela in bocca E devi insultarmi Dai Arrivo Arrivo un attimino Scusa Chiudi 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 gli occhi La porto la forchetta Dopo ti spiego perché Chiudi gli occhi Eh lo chiusi Ok Cioè è più chiusi di così Vuoi un frutto? Sì grazie Dai Tieni Lo sto riaprito Sì 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 Ok Eeeh Che c'è Cosa Cosa devi fare Eeeh Perché la forchetta Cioè Da quando è che si mangiava la banana con la forchetta? No 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 Allora Questa va bene Ah c'è anche la mela No la mela perché Dove devi in bocca Capito Ok Ok Aspetta Ne mangiamo un Non riesce neanche ad aprirla Però devi mangiarla con la forchetta Perché è tradizione di casa nostra Mangiare un pezzo con la forchetta Pesettino Mangiare un pezzettino Dai Sì 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 La mela c'è La mela è qua Dai Un pezzettino Eh vabbè un morso Sennò che è un morsettino Buona Buona No non mi piace la mela Cioè Ne va un altro po' Vuoi finirla? Cioè Vuoi tuttare Qualche meno Così io non la Non la butto La vuoi tutta? Tutta sua dai Te la regalo Si riesce a leccare Puoi leccare un attimo un po' la forchetta dopo? No tipo No 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 Non per leccarla Cioè tipo Fai finta di mangiare Tipo Cioè come se dovessi mangiare Non ti mangia la normale Dopo Chiudo gli occhi Vabbè chiudo gli occhi Ma tutto bene Chiudo gli occhi Chiudo gli occhi Ma cos'è che No Non la faccio Vai di mangiare Sto mangiando Ti metti l'imbarazzo magari No L'utilità No 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 Dai adesso mi sono supercata Tutte le mani L'utilità Tra me Sai come si mangia la manana Al contrario Sbocco Sbocco Ma quella la volevo io dopo però eh Ha un sapore strano ne Ma raga ma sta bene Ma hai lasciato tutto il rossetto Non è proprio buona con la buccia eh Oh No voglio provare con le forchette Ma prendi Le ci metti un secondo Sei salito per la nonna Questo qua era quello tu Che hai bevuto prima Sì Mamma raga Ma io veramente Io non ho parole Cioè sei senza limiti proprio Posso un pochino No 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 Ti è piaciuto? Sì Merda Ma non è vero Era buono Vabbè comunque il gioco della mela no Però stavano dicendo Facciamo il gioco di Ci ha proposto un argomento E stavano dicendo No mi aveva già parlato Cazzo dico No no Ok Ehm E te invece quando hai fatto sesso? Un anno fa Sì? No Coincidenza? No chiedo eh Chiedo per un amico Un saluto tutti i tre Perché ci stanno seguendo Rock 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 never dies No raga veramente un anno fa Non è cambiato nulla Ci sta L'ultima volta che te l'ho detto No io non ho Necessità Nenca io Cioè se ce n'è bene Nenca io No Bene A me basta che ci sia qualcosa Cioè riesco ad andare con un ragazzino No no infatti Speriamo che stasera Infatti Cioè che stasera Ci diverto Amo 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 Dai Sto bene con i capelli indietro? Dimmi di no Sì molto Sì? No no allora no Cosa devo dire? No Cioè sì 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 Sei gelosa delle tue amiche? Sì Sì tantissimo Cioè della mia migliore amica da morire Sei possessiva? Sì Tantissimo Cioè anche con il tuo fidanzato Saresti possessiva? No Con il tuo migliore amica sì però Sì Cazzo è veramente Piccolo controsenso No veramente Con il mio fidanzato non sono mai Cioè con l'ultimo fidanzato Ma anche con gli altri Un saluto al suo ex Non sono mai stata possessiva Ma mai Cioè proprio Gli lasciavo fare ciò che voleva Poi Cioè come io volevo fare tutto ciò che volevo Ci mancherebbe Hai ricorla? Sì A me sì Cioè A me no Ho riso Cioè solo per Va bene ma fa niente Succede Ma come te l'ha fatta ricorla? È andato in vacanza È andato in vacanza Vabbè si è fatto questa ragazza Che poi non so Che cosa abbiano fatto esattamente Solamente Come hanno fatto sesso? Interessante grazie Ma come l'hanno fatto? Ah non vuoi saperlo? Forse Ci ho pensato dopo Vabbè Ok È fatto Cioè Corna Sono andati in moto E niente Solamente che Si sono Vabbè è successa questa cosa A Gallipoli Un saluto a tutti i pugliesi Dai No fai serio Solamente che Niente Parlo da sola Vabbè io vado avanti a parlare Solamente che Questo ragazzo Cioè è stato un po' stupido Perché è andato Il tuo ragazzo Ex Questo ragazzo Il mio ex È stato un po' stupido Ti bacio Che si trovava a Gallipoli Era delle nostre parti Ed era amica di una mia amica Del mio gruppo No? Le amiche E quindi Possiamo fare il nome? No No vabbè non ci credo Si è abbonato E niente basta Quindi me l'ha detto Questa è una mia amica E cosa ti è successo E è andato così Hai mai detto il tuo ragazzo Il cazzo piccolo? No Non lo farei mai No Invece a me è capitato Cioè magari Ma no Ma ci mancherebbe Che gli dica una cosa del genere Ma figurati L'ho detto anche io Alla mia ex ragazza E? Cosa ti ha detto lei? Boh dai Ti era contenta? Cioè lei fa piacere Fa piacere Ehm No invece io Non ho mai avuto una relazione Cioè Mai No io Nei mie sono durate poco Cioè nel senso Non ho mai avuto una relazione Serie a seria Non ho mai trovato Il ragazzo giusto Per averla Diciamo Ok Speriamo sia davanti a te Cioè non davanti ai tuoi occhi Adesso Cioè davanti a te Generico Un saluto a tutti Tutto Un saluto a tutti Ma chi? Sembro Joker Comunque dalla distanza Vero? No Fai semplicemente paura Ma qui sono più bello Da vicino Sono più bello da vicino Cioè quel rossetto No sembro indisaggiato E basta Possiamo fare una cosa molto easy Posso darti un bacio sul culo E ti lascio lo stampo? No Ma gliel'ho chiesto Cioè Non c'è sempre gentilezza Ehm Cos'è che dovevo dire? Dammi la sulla mano Però non so Magari si è asciugato Spingi Spingi Sì Credo che non abbia avuto Una relazione Comunque Sai quando finisci i baci in discoteca? Che vai dall'amico Oh bro mi son fatto quella Così Cioè poi andate dall'amico in discoteca Poi non so a chi capita Voi stronzi Oh raga mi son fatto una tipa No bro non si vede Cioè raga la mia mano Ma si vede? Sì 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 Se te l'avessi fatto su cosa Sembrava un pugno Più che No 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 Tu che ne sai rosso È impossibile che te ne si fatta una Parlale con tua sorella Ma perché è rosso qua? No Io devo farmi una doccia dopo sta roba Renditi conto Se vuoi la facciamo assieme Ehm Ehm Piccola battuta Ehm Ti faccio Mi fai? non ci credo ma mi hai fatto spaventare che cosa lo vedi? il calcio è la mia passione non posso non farvi vedere le due cose se raga io scappo veramente ok ti sei? ti faccio vedere la bicicletta ma cos'era? ma chi è il coglione che ha donato lo scream? non ho le cuffie ma chi è il coglione? grazie per i soldi grazie per la bicicletta sei pronta? ma non stavi gioiando a calcio tu? ma stavi facendo la bicicletta? con il pallone? no, io faccio la bicicletta io prima ho detto il calcio è la mia passione ma io faccio la bicicletta vuoi vedere la bicicletta con il pallone? sì dovresti mettere il pallone vicino alla ruota e poi star così ah, puoi farvi il tetto? no, guarda no, la so fare non è che non mi aspetto mi ricordavo venisse mi fai sbintare non è così importante in fin dei conti ti porto la seconda portata? sì dai, grazie no, a parte di scherzi io ti avevo portato un piccolo regalino ma io ho fame ti ho portato un piccolo regalino? ho fame? ti ho portato un piccolo regalino? eh, ok ragazzi allora qua ovviamente il regalino è dentro aspetta che così non si vede ok, così ok ok con calma apri con calma vai sì, cioè sì, l'ho messo con lo scotch sì, quante robe ha messo? però devi aprirlo solo con i denti ho detto ma ti pare? eh no, sì, sì, sì no, no, non te lo regalo ok, uno tutto con i denti sì, sì che schifo immaginati questo l'hanno preso a calci cioè tutto e te ah 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 ah, non ci sta, eh spacca, spacca a me l'ho bevuto pure della bottiglia sì, 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 no no, dai, veramente, è impossibile un saluto a Jeff Bezos che comunque ci segue sai che mi segue a me, Jeff? sì, bene non so chi sia Bezos? sì sai chi è? sì è normale, ragazzo sa un po' di te sa di me no, sa di te di te di te in generale proprio aspettiamo un attimino, eh ma ragazzo, raga, veramente ha messo tantissimo scotch qua c'è assurdo ok vado? sì, sì, c'è un'altra scatola aspetta fai vedere vai, a poco devi far vedere c'è un'altra scatola mostra loro mostra tutto loro assurdo ok, hai, c'è un'altra scatola di nuovo c'è madonna mia come i bambini no, 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 no ma ti spiego, eh aspetta che appoggio giù per terra wifi? sì, sì ce l'hai? sì, sì, no apri, apri finalmente, no perché gli ho chiesto la wifi non ce l'ha no, ora no se non si è visto un cazzo come no? vai tranquillo l'ho colorato sopra ah, ma pensavo non si è visto l'indirizzo c'è la penna sopra aia siamo aia cazzo che male siamo e ci conosciamo bene non siamo i miei amici l'ho fatto ovviamente in maniera amicale ma giuro vai, vai, vai no, no, no no, è già aperto è già aperto è già aperto quando l'apri fai però mostralo subito la camera anzi chiudi gli occhi anzi, non chiudi gli occhi ok, questo no decidi sono ancora su cui ti sei cagato al donso no 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 sono le queste sono già regalate le mutande di mia mamma grazie bellissime happiness io veramente sono senza parole no, tu mi dissocio non sei la mutande di mia mamma sono mie ovviamente e ho fatto una piccola gag Twitch mi dissocio ovviamente nulla come mamma macchiata e dai ti porto la seconda portata ok grazie ma di cosa si tratta? cioè è un secondo no, no non ci puoi mangiare ma come? no, non ci puoi mangiare ma io voglio mangiare quindi gli occhi vai aspetta cioè ma perché mi fai chiudere gli occhi? cioè se è un piatto non ha senso ma parla per te cioè vai ti ritocco sì ok dai posso aprire? apri tu? chiedi gli occhi ma tanto lo vedo due secondi dopo chiedi gli occhi oh madonna ok vai sei pronta? vai ooo minchia che sabato di merda ma tu che cazzo guardi almeno hai il figlio di troia no scherzo un saluto a tutti i figli di troia di questo mondo compreso me stesso è il mio dito cazzo da me so che spingevi giù non scende c'è il mio dito orca troia intatto perché se mia madre vede un piatto rotto una banana distrutta una mela con il rossetto e una mutanda rotta uno sporca ma perché XXL? no infatti è di un mio amico che troia e? con questo? no in teoria no adesso te lo spiego metto degli oggetti che ci permettono di parlare di altro cosa ne pensi dell'espropriazione del PIL? non farmi state domande no forse non c'entra con il preservativo il PIL cioè veramente non fatti di queste domande cosa si potrebbe parlare su un preservativo secondo te? io lo so però voglio vedere sulle dimensioni parla tutto per te anzitutto ti chiedo si può trascinare non distruggermi il cielo fanno ma scusa è tanti non ci posso fare nulla prodotto interno lordo oppure si potrebbe parlare o sulle dimensioni oppure se abbiamo fatto se lo usiamo esatto hai fatto se lo usiamo esatto no cioè si no non è molto chiaro ah sì non ha fatto senso sì anche a me è capitato un saluto a mio figlio e perché non sei andato non sei scappato sei voluto rimanere hai fatto il bravo uomo no 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 è diverso non c'era nemmeno più quella ragazza incinta ma non sei te ma chi ti ha detto qualcosa no ho fatto così non ho capito no invece tu sai che i preservativi hanno delle dimensioni se evidentemente sembra una sponsor contro se volete fare una sponsor ehm eh ah non le dimensioni io la prima volta l'ho scoperto pensavo si prendessero a casa così io la prima volta l'ho scoperto sì la prima volta perché era stretto ah perché hai sbagliato prenderlo ok ci sono delle misure non su tutti guardi anche la scheda chat ciao papà ciao papà saluto saluto lui si chiama il tuo figlio neanche lui si dice il nome è vero Gilberto Gilberto da dove è nato questo ecco che passate scusa scusa un attimo sì ragazzi il mio è xs va bene avete qualche problema no secondo te è buono da mangiare no ci sono anche quelli gusti ma si può aprire tanto non mi serve adesso si può aprire non so ragazzi già si può aprire no non l'aprire non aprirlo no non aprire eh non aprirlo no no non posso è troppo esplicito è troppo cosa esplicito davvero ho messo delle cose da buttare anzi già che ci sono dai ma perché tanto non ti serve no 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 uso dopo l'uso dopo io per bene dai a posto eh chi che lo vuole lo vuoi? però poi non si vede che è bucato no eh se hai vista la burchetta da questa parte però vabbè no sto facendo tutto il purificante no sincera non ho voglia di a vero buono sto di fragola no ragazzi è veramente sei un disagiato totale ho tirato veramente su che ho scritto buttalo e quindi dopo questo appuntamento dovrei innamorarmi di te giusto? no questo lo decideremo alla fine comunque vabbè stavo dicendo spesso di averlo già deciso tranquillo no no tranquillo non ho fatto le problematiche no a parte le cazzate voglio fare anche io un figlio con te qual è la tua invenzione futura? nel senso possiamo usare quello se vuoi dopo quando finiamo va bene sti video no sono cose tranquille però cazzo stavo buttato stavo buttando giusto ciao ragazzi scusate la location dove mi trovo non so so che non è delle migliori ma sono qui per dirvi che è arrivato il vostro momento chat dovete scegliere uno di questi tre topic amore tradimento o soldi ciao ok ragazzi in chat vi dice tra amore tradimento soldi quello che vinci di più scegliamone parliamo hai capito il gioco? chiarezza la zozzona ma che che sceglie il tradimento? la chat vi dice tra amore soldi e tradimento come ma perché tradimento? cioè ma chi è che sceglie tradimento scusatemi no è un topic di cui dobbiamo parlare di te ha vinto amore no no ma cosa stai dicendo come fai a saperlo? no l'ho vinto io ha vinto amore e guarda ha vinto amore cos'è per te l'amore? ma non è vero che ha vinto l'amore non c'è nessuno che ha scritto amore c'è il sondaggio lo sto guardando io guarda ok ha vinto amore vai amore cos'è per te l'amore? eh veramente è una cosa che non non ho mai provato ma non sai cos'è quindi? eh? non sai cos'è? no e lo stai provando? no c'è ora intendi questo non c'è male la domanda no 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 ok non ho mai amore e il conto ex cos'era allora? droga? no non era amore ah era cioè non ho mai amato veramente una persona mai e quindi scrivevi ti amo a lui? no mai non ho mai detto ti amo e lui? a nessuno si può sapere no e lui non me l'ha detto ma lui era come me? non c'è una persona che me l'ha detto lui era come me? no eh? era come me? fortunatamente no però vabbè no vabbè cioè non sarebbe intanto il mio tipo però vabbè comunque è una cosa che non ho mai provato raga non so voi però no ragazzi non provate l'amore che fa schifo guarda l'amore è tossico tu ti sei mai innamorato veramente? c'è proprio da dire ho provato veramente cos'è l'amore sei parlato come un playboy avete visto ieri quando sono entrato all'old passion quante ragazze mi hanno fermato? si è due due e mi hanno detto ehi uo e ho detto hai il bello di questa persona è una storia triste però tantissimo tantissimo è successo devo morire ma scusami un attimo ah c'è qualcosa di colorato sul naso? ah no sono i tuoi occhi sul naso ho gli occhi niente mi hai rovinato la gag ma dai cioè eravamo pure pensata cioè renditi conto guarda una parola comunque vai prendi le cazzate adesso io metterò prendi le porchette cioè guarda siamo ad un appuntamento prova a lanciarlo ma siamo ad un appuntamento fai niente ma hai preso le mutande te le sei sfalmatte in faccia no no potresti lanciarla via non mi sdraio ti bacio grazie non c'è visto che hai capito cosa intendo no la vova di prima fatto eh però adesso dovrei rilanciarla così capito dai prendite le forchette guarda ma lanciala tu io la prendo no devi imbavagliare fai finta che io sia siamo sul letto ok siamo di sei sul letto si vabbè ma stiamo facendo delle poesie stiamo scrivendo adesso io con la mela in bocca ok e si è spaccata una macella non dico tutto oh 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 devi insultarmi eh ti devo legare si devi permita ah un coglione cioè non c'è nient'altro devi insultarmi ma secondo te mi metto qua a insultarti no no dai si si no si dimmi cose bruttissime tu fai schifo vai vai no no ma mi fai schifo veramente ma questo lo sai anche tu hai rotto insultami fammi sentire la tua cavia oh 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 Mi sono appiccichato il cielo Posso riprendere Non l'ho mangiata Eeeh A me non piace la mela È buonissimo Sì intanto devo mangiarla Perché la banana poverina La mela la finiamo con calma Ma raga No non facevo ridere qua se te lo giuro No 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 non facevo ridere Comunque vabbè stavo dicendo Tu sei schizzato eh Me lo dico Ma che schifo Ma te ne stai mangiando il rossetto Ma parla con te Sì Va bene Va bene L'appuntamento più Ma te che ho portato qua te Perché avrei dovuto portare altre persone E poi la tua bescia con lei A casa Così E com'è questo momento Ti piace? Ti dobbiamo si dico a Giulio No Mi piace un sacco perché posso vedere tutto ciò che c'è all'interno della tua bocca Tutto ciò che c'è all'interno della tua bocca E mi fa partire fantasia Vuoi che ti sputti la mela in bocca? No È buona Ok Eh vedi che ti piace la mela No raga sta soffrendo da morire Che schifo Ti dobbiamo discutere dopo Facciamo vedere se mi discoteca Ok Allora stia balla io canto Sto già ballando Questo è il divanetto raga Va bene È il divanetto Ho una maschera di pelle sopra il viso Una vetrina che mi culla sopra Da ballare Da ballare Ho una maschera di pelle sopra le mie palle lucide Quando la spenda che non sento più le tue palle sopra di me Quando l'estate si sforia Sei calda come l'aria Sei fresca come l'ansia Si necessitare che tongare E mi navi ma mi non appare E si navi ma ma non appare E si navi ma ma non appare E si ridare che tongare Bello Bravo Ok grazie Vuoto Potresti un ottimo zarti? Sì? Sì Ok Aiuto Chiudo Vedi qua? Ho capito Mi sono incastrata tutta Ok Ma che problemi hai? Ma senti bene? Lo senti? Lo senti? Ma non sta bene? Ma lo senti? Ah Scusate Mi dissocio eh Si scherza Ovviamente non sono quel tipo di persone che fai Era una piccola gag Era una piccola gag ragazzi Gag Si scherza Non fatelo assolutamente Io non ci credo Un po' profumo Un po' profumo Un po' Un po' In mia bocca Io porca Cosa ne pensi del dick pic? Te l'hanno mi inviata la foto del cazzo? Te l'hanno mi inviata la foto del cazzo? Cioè sì Ragazzi vai Però no ragazzi Armata Vai Fato del cazzo No scherzo No allora me l'hanno mandata Non mi avrei dato assieme Anche se mi parte Scusami Mandi a puttane tutto Perché muovi quella cazzo di sedia Ma va bene lo stesso No comunque Diciamo che me l'hanno mandata Però anche video Ballavano Sì Ballavano No sono serio? No non ballavano Però No ragazzi che conosco ecco Tutti sconosciuti Allora sono sconosciuti Su Instagram e così Mi mandavano Quindi cioè Se tu dovessi fare una Rate dick C'è una valutazione del mio cazzo La faresti Ma solo in amicizia? No Io chiedo Cioè Chiedo eh No perché non in amicizia Cioè non Dai Sono contento Chiara ti ho prenduto una foto Puoi vederla Ah Perché ho tanti Ho tanti video Questo è il prossimo Grande Giulia eh Bella Ciao ragazzi Raccontatemi come è andata La vostra ultima relazione Come è finita Chi era innamorato Chi ha lasciato chi Voglio sapere tutto Dai Iniziate Dai Allora La mia ultima relazione È andata un po' Aspettila Allora La mia ultima relazione Ti metti in suggestione Non è andata tanto bene No mi sembri Un psicopatico Però va bene Non è andata tanto bene Tutti i psicopatici Della città Allora non è andata tanto bene Perché Allora l'ho conosciuto Ad Halloween Dell'anno scorso Un saluto a tutti quelli Travestiti Cioè non è Travestiti E basta Poi ci siamo scritte Mi ha iniziato a scriverci Si sono scritti Vabbè alla fine è andata Che ci siamo Si è mollato Ci siamo sentiti Si è mollato E si sono sentiti Per qualche mese Siamo usciti così Però alla fine Sono usciti Non è andata tanto a buon fine Cioè io l'ho mollato L'ha mollato E basta Niente E niente Non ci trovavamo Allora diciamo che I nostri pensieri Erano un po' differenti Su tantissime cose Però cioè Lui era preso Era preso Io ero presa all'inizio E poi Era presa all'inizio A sbagliarsi purtroppo Anche perché Cioè mi dispiace Perché era una persona bravissima Era una persona bravissima Cioè lo è tutt'ora Tutt'ora lo è Giuro eh Ti arriva No no La prossima Era bravissima È una bravissima persona E ecco gli auguro Ma quanto è bello Essere scolacciati da Chiara Faini Dai Cristina ma ascoltami Scusa scusa Che non ti sto scontando E niente È una bravissima persona Gli auguro Tutto il bene del mondo Sinceramente Però Purtroppo non è andata bene Io gli ho detto Basta Non va così Non ero Non ero più presa Sinceramente E Basta Non andavamo più d'accordo Continuavamo a modificare Vedi perché guardo là Cioè sei scemo Sono tutti i fancazzisti E basta Quindi è andata così raga Ok Eh dimmi Dimmi della tua Sono curiosa veramente Di sapere chi era Quella psicopatica Che stava con uno così Però Sì ma Psicopatica Quando mi guardava la mascella Cosa pensava Quanto mai No invece non era una relazione La mia Cioè Sesso sporatico Migliori amici Scopa amici No È diverso Cioè cosa che facevi con questa ragazza Migliori amici Senso sporadico Cioè Non facevi un cazzo Non ci uscivi Non facevi niente Sì Migliori amici uscivano sempre Poi diventavano Sì ma non c'era Niente di serio Quindi Migliori amici Vabbè Difficile a spiegare Non la spiego Non ciò sbatta Il video Facciamo un altro video Ah esatto Ciao ragazzi Vi mando un saluto Da Roma San Giovanni Dovete stare 10 secondi Naso nato No ancora Dai Dai Non abbiamo già fatto L'altra volta Sì 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 Ma basta YouTube Che pale Sì Vai Conti i secondi No No li conto io Te li conto uno Due Vai Ma lo devi mantenere il contatto Stai lì così No no Faci conto con la chat Così vai Aspetta Aspetta Oh Anu Ah no Non è che ti bacio Naso naso Eh cioè Ma va Ma No Va bene Cioè mi fido Anche l'altra Se ti bacio mi tiro un pugno Anche sì ovvio Anche l'altra volta Non sei la prima persona che faccia un naso Anche l'altra volta è stato bravo raga Che complicato di quello che sembra veramente Ma quattro cosa Ma quattro Si è arresa prima Ma non è che mi sono arresa Cioè eravamo lì Si è arresa prima L'ho vista L'ho vista Ti sei arresa prima Ti sei arresa a quattro secondi e mezzo E' una parola veramente Ma cosa Ma tu che secondi hai imparato nella tua vita Quando ho visto su con la mia ragazzina Dura mezz'ora Ma a me sembrava cinque minuti Beh quindi Sì sì Ha capito Secondo te che hai capito Ehm Vorrei essere rosso Che schifo Se vorresti essere mai me Vorresti mai essere un'altra persona Sì Malissimo Vuol dire che non hai emozioni E non punti al top Non punti al top Io vorrei essere sempre me stesso Non prenderei mai la vita di Leo Messi Cioè magari solo per esperimento sociale Lo farei per un giorno Eh Quello intendo no Non per sempre No Beh era chiara la domanda No Mi hai detto vorresti essere una persona Era chiara Veramente Cioè No comunque mi piacerebbe Provare a Essere nel corpo E nella vita di un'altra persona Magari per una settimana Raga che almeno Io per un giorno Posso di una tira E metterei una zucchina nel culo No ma per un giorno è troppo poco però Mettere una zucchina nel culo No io vorrei Essere a posto di Leo Messi Per un giorno E fare un doppio passo Ad Agno Alves Ehm Ehm Se Nella tua vita Non fossi impegnato Usciresti mai con me Per chi ti dice Che sono impegnata No Impegnata lavorativamente Usciresti mai con me Cioè tu hai detto Se nella tua vita Non fossi impegnata Usciresti mai con me Non hai detto Lavorativamente Cioè Adesso l'ho giunto Adesso l'ho giunto Eh Lavorativamente Perché è un lavoro Star con te Non so No ho detto Se lavorativamente Non fossi Cioè Se ero impegnata Usciresti mai con me Capisci che non ha senso Quello che hai detto Ehm Bomba Non è normale Non è normale Non è così No Thomas Inizia Thomas Cazzo Forca troia Non so per cosa sto pagando Ma sicuramente sarà divertente Vabbè posso all'ultimo subito Allora Niente Ehm Potresti bere un goccio d'acqua Si Però tenete in bocca l'acqua Adesso ti spiego Adesso ti spiego Non devi fare nulla Di niente Di che Non devi fare Niente di che Non mi fumo Mi può sputare in bocca Sì In faccia Come no Perché no Ti fa schifo Ma non mi hanno pagato Si si guarda Questo qua Lo vedi l'ultimo Ma era in bocca Non sui capelli Ma innanzitutto Era fatto Lo schermo dietro Era in bocca No è in bocca Devi sputarmi così Io sono così Se l'ho aperta la bocca Ma che schifo No veramente Ma voi non stai Poi tu mi faccio centrare No 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 Se non mi centri A me dai Ma cosa mi stai facendo fare Ma io veramente C'erano oggi Sono caput Ma cazzo è beccato tutta la bocca Ce l'ho giuro eh Sì perché ce l'ho fanno arrivata No l'ho bevuta la sua acqua eh Però fermi fermi un attimo Aiuto Scusate che devo Dammi Un attimo Una lavatina C'è C'è Ti porto l'ultimo piatto Dai bomba Un altro piatto Oh no Sei un coglione Cazzo mi fai lo scherzo Dai che sei mod Ok Ok vai Ok Cosa pensi ci sia sotto questo Vin brulee No No Non posso provare questo Ma che merda Cazzo di anello è Fai vedere sto cazzo di anello Faglielo vedere Ma ti pare Ma raga ma non è brutto Ma perché Cioè Vabbè comunque non è importante Vabbè stavi dicendo Eh Cosa c'è dentro qua sotto Rega una fissima di voi La trovate comunque Elevate La lingua Fai la sua matrice Ok Questo è il limone Questo era il limone Con il bluetooth Ragazzi scusate Bravo La capa L'ho che mi ruba le battute Ok calma Allora Qua ci sono due carte Uno è un obbligo E uno è una verità Ok Niente Mi sono un attimo Verso nei tuoi occhi Ok Come faccio Ok dai leggi Scegli Aspetta Chiudi gli occhi Ok vai Come cazzo scrivi Lo dico io Lo dico io Esprimi No Pensavo ci sia l'altra Dai Questa lo diamo Non so come cazzo scrivere Questa era più bella Dai Che giù coglioni Dai Nelto quell'altra Dai va bene Va bene Ok Ok ragazzi In poche proche Scrivi alla terza persona Su whatsapp Ci ha messo 20 minuti Per capire Che hai la candida E la candida Non è un'amica È una malattia Ci ha messo 20 minuti Per capire Che cosa ci fosse Hai mai pensato di avere Hai mai Hai mai pensato Di volere A tutti i costi Una malattia Sessualmente trasmissibile Hai mai pensato Di avere una malattia Cos'è Ho capito Ma qua Cos'è Vabbè Qua ci sono i gruppi Perciò li ho tolti È È lui Ho tolto i gruppi Che erano due Scrivo lui Posso dire chi è? Sì Sta scrivendo Der Gennaro Chi ha la candida Ok Vai Scrivi Ciao Ergi Ti dico cosa scrivere Tranquillo Ciao Ergi No Non lo chiama Ergi Ciao brother No Ciao Pili 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 Vabbè Scriviamogli Oi Oi Lascia stare Virgola Ho la candida Come mic Come mic Raga Non va Fa sentire Aspetta che mi stanno Sì che si sente Sì vabbè vabbè Scusa che sto scrivendo una cosa Io gli ho scritto eh Però non è ancora online Perciò non lo so Ok Ah ok Ehm No fai vedere il Ah così Ha scritto La candida e basta Sì sì No Gli ho scritto Oi Sì Albi Gli ho scritto Oi Tre puntini Lascia stare O la candida Ma cos'è il suo rumore E' quella Sento Toff Toff Continuamente Ma lì Ma è l'orologio No lo riconosco Ci dormo ogni Ci vengo Faccio lavo ogni giorno Da lì si sente Toff No un altro rumore Vabbè Comunque indipendentemente Da questo Non sono quelle Ragazzi Vabbè Siete dei coglioni Vabbè Quando ti scrivi Andiamo avanti Ehm Eh no Non mi ha risposto Vabbè Che ci siamo Rispondi anche l'altra E per spogli anche l'altra Eh no no Non mi ha letta Non è letta l'altra Bomba Esprimi il rosso Con tre parole Esprimi il rosso Ho sbagliato Ho penso di essere L'orange Se mi focalizzo Su quello a sinistra Mi sale il ribrezzo Fede you Tu ti rendi conto Che mi hai donato Un euro Per dirmi Che se guardi me Ti viene il cazzo duro Sei proprio un pisellino Allora Ehm Il rosso Il rosso Il rosso Non è un aggettivo No C'è il rosso Non Ok Allora Ah Hai capito Ok Allora direi Scemo Prima di tutto Scemo Secondo Vergognoso Sei vergognoso Ehm Terzo Niente Tutti dispregiativi Veramente E' orribile Questa cosa Che sta parlando Sorpresa Sono io Eh vabbè E' detto Tutto Tutto Te Cioè ma Penso non serva Di scriverlo Raga Cioè Non ci sono parole Per dire Quanto sia stupido In questo momento Non in questo momento Cioè proprio in generale Ok Però no Sei simpatico Mi fai schiattare le risate Non toccarmi Non sapevo Veramente Sei prevedibile Ecco è prevedibile E questa è la terza e ultima portata Sì Posso fare una cosa? No 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 La macchina della verità Sicuro vado a fare Ma qual è la devo usare Per un altro format? Che cazzo fai? No no Non usare un altro format Una solo una Rispondi tu eh Ok io rispondi te No 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 Rispondi tu Già e niente Lei si è in possesso delle mie cose Ma quant'è bello Ma quant'è bella andata Sesso amore Te Allora amore Sì Ci sta Ok Ok Vabbè Visto che sei donna Ti potresti No scherzo battuta Ti potresti alzare E mettere i cosi là Battuta Dove c'è No scherzo Ci dissociiamo Dove ci sono i piatti Poi c'è tutto qua A te piacciono i tipi Che ti prendono così Ti girano Sì Non so Perché Sì Perché cosa hai detto così Ok Sì Sì L'hai mutato? Sì sì Eh si è smutati No no Te l'ho fatta Te l'ho fatta Te l'ho fatta Ok Sì Mick lo so Vabbè vabbè Comunque indipendentemente da questo Ti stavo dicendo Sai che io dico sempre indipendentemente da questo? Te ne sei accorta? Indipendentemente da questo dici? Sì Non me ne sono mai accorta Sempre 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 Ma l'hai detto stasera? L'hai detto stasera? Sì sì Sempre Posso farti delle foto? Sì Che poi dopo le uso Naturali Mi sto grattando la testa in questo modo Tocchetti un po' la testa scusa E vabbè No 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 Non so se c'è No 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 Ma è pur arte È pur arte questa Non è per uno scopo Ma no Ma fai in serio Fai così Fai così un po'? No ma ti pare Allora È così? Ok Ritratto Aspetta Aspetta No Mettiti Tipo Fai così Guardami Non ce la faccio Raga ma te lo stai bene È finito Madonna raga Io direi che questo appuntamento Raga Veramente Prima non l'avevi mutato Mernomai che hai detto un cazzo No raga Ho mutato E sei spento? L'ammetto che sei sentito Dai non ho detto nulla Quanto vuoi per queste foto rosso? Ah birial Vuoi fare il birial prima È vero Bravo Mi tocca Ah tu te levo Scusami A te piacere più ragazzi Timido o stronzi? Diciamo che all'inizio Avrei detto stronzi Però Adesso Ho cambiato idea È vero? Sì Ho cambiato idea raga Perché Ma sto perdendo tempo Devo fare il birial Posa tutti Dai vieni qua però Ma birial devi farlo con me Non hai capito un cazzo Senti riprendite Ci sono io poi No Ah ok così Io e te Non sembra un appuntamento Così No è città di merda Ripallo Oh che cazzo stai facendo? Porca troia No raga stavo leggendo I messaggi di Ergi Ah ha scritto Ergi Ha scritto Ergi Attenzione Cosa? Ma non hai scopato Scrivete Scrivi e sì Scrivi e sì Così ti dirà Ma con chi magari? Eh ti dirà con chi? Eh sì sì E poi risponderemo dopo Con chi? Non è così rilevante Però non rispondi In 5 minuti Perché a mezzanotte Te ne vai fuori da Puglioni Che Mi hai anche un po' Rotto il cazzo Scusate ragazzi Scusate Scusate E niente Cos'è volevo dire? Ah sì Dopo Anzi Tra poco Dopo che Il braccio più tamaro di Twitch Dammi un voto Ambra Dammi un bel mio braccio Non ho capito un cazzo Sì ho capito No veramente 8 e mezzo Ciao Ciao Dai gli sparchi No con i capelli Ti ha risposto Ha risposto Ha risposto Occhio tira su che Sì vai Adesso aggiungiamo Aggiungiamo il rosso Vai Perché Mi ha scritto Ma che stai dicendo Ma oggi Sì Ha scritto così E adesso le scriverà Sì Lascia stare Sono andata a casa del rosso Sono andata a casa del rosso Per farla live Sì Lascia stare Puntini puntini No no Sono andata a casa del rosso Puntini puntini Per fare la live Ok Tra virgolette Da il rosso A fare Poverino Mi è potato Ma lo conosci bene? Ergi Abbiamo stra un bel rapporto Lui Avete mai provato A prestare su voi? No mai No per niente Abbiamo un bel rapporto Mi ha scritto No non ci credo Raga Di È simpatico Anca a letto Ok Ma quanto sono simpatico Ti ricipite più forte in Italia Guarda Guarda Ma come posto Il rosso con questo magliucino Sembra palestato Ora io faccio palestra Cioè Che cazzo volete Coglioni Sto lì Ok Ok A posto Easy Non si può dire cosa Mi ha scritto Ma te mi stai prendendo Per il culo No non ci credo Ancora? Sì E cosa devi dire? Eh sì E punto Vabbè Inculati allora Certo Ehm Vabbè Comunque indipendente da questo L'appuntamento È gli sgoccioli Per sua sfortuna Però indipendentemente da questo Adesso tu dovrai esprimere Un parere su di me Perché l'appuntamento Finisce con un sì o con un no Prima lo direi te Io andrò in bagno Non ascolterò quello che dici Poi Le parolacce Ho detto Non potevo dirlo Ah ok Mi ha scritto Aspettate raga Mi ha risposto di nuovo Vabbè figo C'è ma non so Ha scritto Ve lo leggo Ma come cazzo è successo Che ti sei scopato il rosso? C'è figa Dai Dai Ci sta la bomba No ma bomba Ehm E nulla Adesso Ti bago Grazie destro Il giocatore del Bologna Spero ti rompi un crociato Basta Ehm E nulla Questo Punti seguentivo premio Punti seguentivo sub Adesso io vado fuori dai coglioni Ok Vado fuori dai coglioni Tu dovrai scrivere un parere Dicendo se il tuo appuntamento È dato un buon filo o no Cioè devi dire sì o no Ok poi lo fai anche tu Di fare un preludio sì Ma seria però Sì Ok Allora raga devo dire che questo appuntamento è stato A quanto strano Però Ve lo giuro Che a me fa impazzire se un ragazzo Ma a parte sta cosa Vabbè che facciamo i cretini Però veramente a me fa impazzire se un ragazzo Mi fa ridere Così Perciò Penso che Per divertirmi e così Non lo so Ci uscirei un'altra volta Sincera Fatto Eh cioè Quindi sì È andato bene Secondo me Sì Non ho visto se mi ha risposto di nuovo Ah capito Vengo Dai Mi voglio Dai Ok Ok Dai vengo a dire Aspetta vengo a dire Vengo a dire Allora Lei ha un dito nel culo C'è poco da dire È un po' come un massaggio prostatico ad un etero C'è Un po' piacere agli etero eh Però Personalmente non mi piace È stato un po' come un massaggio prostatico Però Giustamente Adesso che non c'è Scusate Ehm No però Però simpatica Dai ragazzi Simpatica Ci sta Sta Mi chiesto male Ehm C'è Spacca Così c'è dalle vostre parti Bajur Tipo Ehm No Ehm Avanti Rispetto ad altre ragazze Quindi per me È un hashtag Si Hashtag Si in chat Per favore Non fatevi problemi Lo scrivere hashtag per favore Dai Dai Hashtag si Hashtag si Vieni pure Chiara Quindi Tanto hai sentito tutto C'è Scusate Tanto Hai sentito tutto Ok ok Ehm 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 C'è 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 Ehm Se vuoi abbracciarmi dietro Ti abbracci da dietro Sì Che un'azione io Buomo No è veramente T'ho disagiato Niente ragazzi Penso che L'appuntamento Sia concluso Questo tutto No Grazie Ciao Ciao Un saluto Ok viene a posto